Per il salotto del mix 2012 abbiamo Marco Fiorentino, amministratore delegato di KPM Quest Italia, a cui chiediamo la sua opinione sulla proposta etno sull'estensione delle ITR al mondo internet e le sue previsioni sulle conseguenze che questa proposta potrebbe avere sull'internet come la conosciamo oggi nel caso fosse accettata. Grazie Mauro. Io penso che la cosa più intelligente che si possa dire in questo caso è di ricordare quello che il Parlamento europeo ha deciso pochi giorni fa a seguito di questa proposta che è stata fatta da Etno. Il Parlamento ha adottato una risoluzione in cui si chiede al regolatore europeo di adottare misure atte a garantire fra le varie cose la neutralità della rete, il principio del servizio end-to-end, il principio dell'apertura della rete e della possibilità, aggiungo io, che qualsiasi opinione o qualsiasi servizio che venga offerto sulla rete passi in modo assolutamente trasparente. Questo concetto è già passato negli Stati Uniti, la FCC ha già adottato questo principio, è già passato in Olanda, siamo a qualche settimana da un pronunciamento della Nelly Croess su questo argomento, fino adesso Nelly Croess ha adottato una politica di wait and see, ovvero vediamo se la regolamentazione attuale basta e se non basta interveniamo. Noi, e parlo per l'associazione dell'internet provider, siamo dell'idea che questa situazione non sia assolutamente sufficiente e che vadano adottate le stesse regolamentazioni ex-ante che sono state adottate negli Stati Uniti e in Olanda, in quanto già adesso si stanno verificando alcune violazioni abbastanza importanti del principio di neutralità della rete. Da una parte, per esempio, si blocca una parte del traffico VoIP in alcuni paesi e dall'altra parte si fa passare il traffico VoIP di servizi degli operatori immobili senza addirittura che questo conti ai fini tariffari. Da una parte si lanciano i servizi 4G dove i propri contenuti video, in qualche caso HD, dell'operatore stesso passano gratuitamente e dall'altra parte tutti gli altri devono pagare. Si lanciano servizi in collaborazione con operatori che offrono servizi di musica online in Germania dove fondamentalmente la tratta di rete mobile viene fornita gratuitamente al consumatore finale e quando il consumatore finale invece deve pagare per utilizzare servizi in concorrenza. Queste cose non devono succedere. Se succedono avranno l'effetto di ridurre la concorrenza sui servizi over the top e quello che succede quando si limita la concorrenza è molto chiaro. Si è visto in Europa prima della caduta nel muro di Berlino. Lì c'erano le Trabant e dall'altra parte c'erano le BMW, le Ferrari eccetera eccetera. Io penso che il Parlamento europeo ha affermato un principio che farà sì che non torniamo alle Trabant e che continueremo ad avere un regime di aperta concorrenza così come Internet è nato e così come Internet ha prodotto i vari Google, Facebook, Skype eccetera fino ad oggi. Devo dire che Nelly Croix fino ad adesso è stata un po' timida da questo punto di vista. Speriamo che adesso abbia il coraggio di affrontare anche con forza quelle entità che forse vorrebbero invece continuare a tornare al mondo delle Trabant. Grazie a tutti.